Può segnare da lì, rischia la palla nonostante il pressico. E c'è un gol pazzesco, al volo! Rivediamo l'azione del gol qui. Il pallone messo in mezzo era davvero invitante. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Il pallone messo in mezzo, il pallone messo in mezzo, il pallone messo in mezzo.